Quattro ore sotto la pioggia ed un meraviglioso vincitore per distacco per la 68esima Coppa Cicogna, un appuntamento ancora una volta di straordinaria qualità. Autore di un'esaltante fuga finale di 22 km, il ventenne varesino Alessandro Covi del team Colpac, reduce dalle due vittorie di tappa nella corsa spagnola della scorsa settimana, oltre al secondo posto nella classifica finale, ha iscritto così per la seconda volta in maniera consecutiva il proprio nome nell'albo d'oro della corsa valdarnese. Un Covi spettacolare che sui tornanti di Montefaeto, la novità del percorso di quest'anno, voluta dal CT Marino Amadori, presente alla gara e dal direttore organizzativo Marco Borgogne, ha lasciato un gruppetto di nove fuggitivi iniziando un volo spettacolare che lo ha portato da solo su quel traguardo dove aveva trionfato anche l'anno prima. Il tutto sotto la pioggia sferzante a tratti battente che ha decimato le forze in campo, tanto che dei 124 partenzi solo in 31 hanno concluso la gara. Dietro allo scatenato Covi hanno insistito nell'inseguimento i tre atleti della General Stolbottoli, Iversen, Borgo, Smarzaro, il tandem della Petroli-Firenzio-Pla Maserati, Scaroni-Fortunato, gli incomiabili Corradini e Rinaldi, ma il fuggitivo non ha perso un solo secondo e al traguardo sono stati 42, quelli di vantaggio. Corradini e Romano sono stati con lui sul podio, giusto così, ma tutti coloro che hanno concluso la gara meritano comunque un vivo elogio.